è stata dura è durissima in salita anche stavolta 1 a 0 pensare gare soltanto il pareggio non ci bastava rimontare due gol al Messina cioè io credo che gli altri anni non c'erano ma credo che un veramente così non l'abbiamo avuto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti